si parte così monte radicchio arriviamo buongiorno bottego trekking qui da via malfolle partiamo per il monte radicchio sul gruppo non vi sto neanche a dire niente perché niente sembra il gruppo dei pensionati in vacanza guarda qua a dopo le presentazioni per il pettole ciao buona bellina la grotta ma c'è una bella grotterella bella vista come potete vedere non so se si viene filmato in foto posso chiedere a stefano corno cimone di sosta sono ghiacciato incontrato porca miseria dai dai come al solito facciamo sosta pranzo ragazzi ci sono posizionati che più che meno filippo sta nella sua posizione ideale sbraiato perché ogni tanto si capote bene pappa a sinistra si mangia allora a dire la verità stiamo seguendo luca che però ha un tasso dove andranno a finire i nostri eroi e vai per cui il sentiero in mezzo al bosco speriamo di trovare la strada di te molto divertente oggi c'è un po' di difficoltà a trovare la traccia per tra i disagi inediti tipo questo bosco di abeti ma le macchine prima che scenda il buro ma noi forse ce la faremo abbiamo anche scusate ma sto mangiando un biscottino siamo quasi nel paesaggio perché c'ha dei bei colori e via guarda sorridentissimo guarda contento stiamo arrivando alle macchine ultimo pezzo guardate mi sembrerà impossibile ma siamo arrivati alle macchine e andiamo sono chiuso ma fa qualcuno ma allora botteco trekking abbiamo chiuso il giro e abbiamo dei rompi scatole dentro il gruppo che mi disturberanno siccome devo andare a braccio non so bene cosa dire e devo fare la chiusura e mi rompono le scatole comunque voglio dirvi che il giro è andato molto bene a parte qualche riduzione al tema che colpa di luca ci ha portato a fare come dire giri inenarrabili lungo le nostre colline abbiamo fatto 17 chilometri più di 800 metri di dislivello e ragazzi sono stati molto bravi adesso ve li faccio vedere se vuoi farveli vedere non lo so perché non è che proprio sono bellini bellini comunque vabbè ve li faccio vedere ecco qua guardatevi il spettacolo questo è il bambino russo sempre l'eserclana ecco qua ragazzi guardate che belli tutti quanti bene direi che questo è l'akbar abbiamo l'akbar bel giro eh bene 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 chiudo perché abbiamo già un minuto volevo solo dire una cosa e spero che i ragazzi mi vengano dietro vorrei solo dire al mio tre tieno di merda vorrei dire che noi siamo del del bene vi saluto e alla prossima domenica ciao ci siamo dai fai così tieni lì festeggiamo il compleanno di corticelli con tutti i bicchieri un bel brindis e una salute di corte dai dai auguri a terra che manca della gente